Ve l'avevamo promesso che saremmo tornati. Ciao Luciano. Speriamo che non sia una minaccia. Comunque a te come fai ad essere così perfetto sempre come le vite nei film? Tanto per citare buonanza. Sono perfetto dove? Vai avanti. Allora no, dicevo, vi avevamo promesso che saremmo tornati. Perché Luciano, allora, Made in Italy, che sta uscendo tra pochi minuti, sarà già online, quindi in vendita anche su iTunes. Ma volevo dire, io mi ricordo che è finito Campovolo, poi un po' tutti ti abbiamo cercato, ma te, allora, il telefono era spento, ti scriviamo email, non rispondevi. Chiedevamo a tuo fratello, piuttosto che a Maio, ma avete visto Luciano? No. Cioè, dove eri finito te dopo Campovolo? Allora, dopo poco di Campovolo c'è stato il famoso periodo della sparizione che in realtà è stata veramente una sorta di trans creativa. È un periodo che così non mi era mai successo, francamente, in cui a un certo punto mi metto lì e dico, allora, è vero, c'è da sondare questa cosa di questo personaggio che è il protagonista di Non ho che te. Beh, questo personaggio mi permette di raccontare un po' la crisi esistenziale di una persona, il percorso che ha, all'interno della vita sociale, o perlomeno la sua, proprio all'interno qua, di questo posto, e quindi di conseguenza anche del paese in generale, una crisi di identità di cui lui incolpa il mondo esterno totalmente e in buona parte ha ragione, cioè molti motivi sono giusti per la sua incazzatura, però ha anche bisogno di fare lui un percorso suo per poter acquisire una consapevolezza maggiore, una forza maggiore anche nell'affrontare anche i problemi che inevitabilmente arrivano da fuori. Quindi ho detto, questa è l'odissea di questo personaggio, ok? Questo però, adesso vediamo come la racconto, non sapevo se fosse un altro me, se fosse la mia vita possibile nel caso non avesse trovato a 30 anni uno che spendesse di tasca proprio i soldi per produrre il mio primo disco, se fosse una mia vita parallela nel caso entrassimo nella fisica quantistica, se fosse semplicemente una parte di me, io questo non lo so, so che mi sono ritrovato a cercare di dar voce a questo altro me che ho mandato avanti, diciamo così, per dire le cose che io volevo dire, magari con un linguaggio per certi aspetti forse anche un po' più incazzato perché Ricco è ancora più incazzato di me. Quindi si chiama Ricco il protagonista? Il protagonista si chiama Ricco e questo l'avrete capito, almeno quelli che sanno che il mio secondo nome è Riccardo è anche un giochino legato a questa cosa, quindi Ricco come se fosse per l'appunto il mio alter ego o ancora non sappiamo chi è, però diciamo una parte di me, diciamo così. Ho cercato di vestire i suoi panni per raccontare come vede la vita lui che in qualche modo da troppo tempo fa lo stesso lavoro che lo annoia da morire, che da troppo tempo è sposato con la stessa donna, ha avuto un figlio troppo presto, deve fare i conti con l'ingiustizia fiscale che riguarda il paese in generale e lui in modo particolare si sente vittima, con i servizi che non sono un corrispettivo adeguato alle tasse che lui invece... Insomma tutti gli aspetti che un po' conosciamo e poi ha tutto un suo percorso, che adesso non vi sto a raccontare perché è un po' della storia, vorrei che la scopriste attraverso il disco. Però guarda Luciano, io qui ho il... Scusa, faccio un esempio per dare comunque una sensazione ancora sui contenuti. Voi avete sentito ad oggi G come giungla e Made in Italy. Ecco, G come giungla è l'espressione dell'incazzatura di Rico quando è ancora in fase di presentazione di se stesso all'interno del disco, nel momento in cui confessa che dal suo punto di vista le banche hanno vinto e ha perso un'idea di mondo che gli hanno promesso per tantissimo tempo. Mentre Made in Italy è un pezzo che è verso la chiusura dell'album quando lui e sua moglie, che erano praticamente due separati in casa, ripartono con la loro storia e decidono di darsi un'altra chance partendo da questo paese, cioè facendo una luna di miele da turisti in questo paese. Come non fa più nessuno? Nessuno più fa l'aluna di miele in Italia. No, io l'anno scorso ho fatto delle vacanze a Roma, tanto per dirvi, e tutti gli amici di Roma che trovavo dicevano cosa fai qua? Sono venuto a fare un po' di vacanze. Vacanze a Roma? Sono vent'anni che non sento di un italiano che faccia le vacanze a Roma. È un pensiero terrificante, però insomma questo è almeno l'aspetto che riguarda quelle due canzoni per dare un'idea che all'interno dell'album hanno una loro funzione narrativa. Infatti tu mi stai indicando proprio il booklet che è qui in una versione quasi digital, quindi un po' allargato. E se posso permettermi anche di dare un suggerimento, cioè solitamente quando si prende un CD, intendo anche fisico, ma anche digitalmente, perché poi uno si scarica il booklet... Siamo lunghi? Portate pazienza. Non riusciamo a dire tutto in 30 secondi e portate pazienza. Va avanti, va avanti. Ah, vado avanti? Sì, sì. Ok. No, dicevo, mi piacerebbe di dare un suggerimento. Quando arriva il CD, prima di guardare tutto il libretto, eccetera, lo metti su e lo ascolti. Io in questo caso, invece, nel tuo caso di Made in Italy, io suggerirei di aprire il booklet immediatamente, perché ad ogni testo di canzone è accompagnata una lettera che presenta ogni canzone, o comunque fa capire la storia. Ad esempio, il disco si apre, ce l'hai detto anche a Monza, con La vita facile, che è il primo brano. e c'è questa lettera che... Posso leggerla? Sì. È una lettera indirizzata a Carnevale. Però portate pazienza. Sento già di là che dicono, dai, stringi, stringi, ma non si può. No, dai. Allora, sì, siamo lunghi. Alzati. Scusate, non dobbiamo essere per forza. Giuro che sono tutto Made in Italy. Allora, no, allora, dicevo, questa lettera dice Ciao Carnevale, non so dove sei, non so come stai, so che manchi. Tanto. Scrivo queste righe così, sperando di raggiungerti in qualche modo. Chissà se ti chiamano Carnevale anche lì dove ti trovi. Io ho cominciato a farlo da quando? Le medie, forse? È che fin da piccolo eri fatto così, sempre tutta una gran festa. Ero io quello che rompevi i coglioni. E già allora la menavo dicendo, quand'è che comincia la vita facile? Ecco, allora, all'interno del booklet, questo è il booklet, diciamo così, stampato in grande, perché così almeno riuscivamo a tirarci a leggerlo. Lo stiamo facendo vedere giornalisti in questi giorni. Sul vinile ovviamente è un signor libro. Per favorire anche, diciamo così, lo scorrere della storia, lo scoprire gli aspetti della storia, il fluire della storia stessa, c'è questa lettera che Ricco scrive al suo migliore amico che si chiama Carnevale, e già qua un po' spiega come mai ha questo appellativo. E ogni parte di questa lettera è in testa alle varie canzoni e permettono... Scritto a mano da lui, alla lettera. Permettono di... Sì, è una brutta calligrafia. Tutto questo per dire che cosa, alla fine. Qual è il desiderio di Lucianino? Il desiderio di Lucianino è che un album nel 2016, come un concept album, che è la cosa più demodè che ci sia, possa ancora avere l'attenzione che un album dovrebbe avere. Mi piacerebbe tanto che parte del vostro tempo decideste di dedicarlo nell'ascoltare l'opera completa. Perché io sono affezionato a questo tipo di idea, ancora di ascolto musicale. Però io non ho nessuna pretesa, nessuno può avere nessuna pretesa nel confronto di chiunque altro, ed è anche per questo che le canzoni, in buona parte, hanno la loro autonomia, e quindi, chi avrà voglia semplicemente di dire senti, a me piace una canzone di quest'album qua, mi affeziona questa qua, è buona lì, non mi rompere i coglioni, per carità, c'è anche, a proposito di non rompere i coglioni, c'è anche una canzone che... È venerdì. Dichiaro una certa consapevolezza da questo punto di vista, che per l'appunto è venerdì, non mi rompete i coglioni. E siccome oggi è proprio venerdì, e riesce il tuo disco, noi li abbiamo un po' rotti forse. No, oggi, adesso è giovedì. Beh, vabbè, però, sta scattando il venerdì. Comunque, non ci pensavo, è vero, il disco esce di venerdì. Quindi... No, va bene, allora, ragazzi, vi abbiamo detto tutto quello che potevamo dirvi nel tempo infame che... Che i social impongono. I social impongono, per cui, questo è. È chiaro che si potrebbe dire molto di più, ma altro lo leggerete in giro, me lo sentirete dire tante volte, ripetere fino alla paranoia. Grazie, Pietro. Grazie a te, Luciano. Grazie a tutti voi. Grazie a voi, in ogni caso, per l'attenzione che è nata oltre i due minuti necessari per un ascolto che non crolli su Facebook. Per chi è in diretta, buonanotte. E buon ascolto, per chi si sta scaricando il disco tra pochi minuti. E per chi ci vedrà in replica, buongiorno, buon pomeriggio, insomma. Ciao a tutti, e naturalmente, made in Italy. Ciao, Luciano. Ciao. Ciao. Ciao.